Jacopo Botto, primo giorno di preparazione per l'Abbama San Bernardo Cuneo. Ti chiedo sensazioni, innanzitutto di tornare a questo palazzetto dopo tanti anni e poi impressioni su questo inizio di preparazione, una nuova squadra, eccetera, eccetera. È stato un primo giorno abbastanza emozionante perché comunque era più di dieci anni che non mettevo piede in questo palazzetto e ritornarci per iniziare la preparazione e poi per avere davanti una stagione da protagonista mi emoziona. Direi che come primo giorno è stato molto positivo, stiamo iniziando a togliere un po' di ruggine dalle ginocchia e dalle spalle. Ho visto un gruppo che ha tantissima voglia di lavorare e adesso andiamo avanti con questa preparazione. Tu arrivi da Piacenza, cosa pensi di poter aggiungere alla rosa di Cuneo? Quale contributo puoi dare per questa stagione in cui Cuneo vuole recitare un ruolo importante? Cosa posso dare? Sicuramente questi ultimi 7-8 anni di Superlega mi sono serviti. Ritorno in questo campionato con grandissima voglia di lavorare e di dare il massimo per questa squadra, per questa città. Ma anche i miei compagni mi dovranno sicuramente aiutare, ma sono convinto che con il lavoro di gruppo che abbiamo iniziato oggi a fare ci toglieremo belle soddisfazioni. Ti chiedo ancora una cosa, Cuneo riparte da il terzo posto dell'anno scorso, semifinale play-off. Che campionato pensi possa essere questa Serie A2 che negli ultimi anni è sempre stato molto competitivo? Sì, come hai detto te, è un campionato molto difficile. Bisogna arrivare bene nel finale di stagione, perché come ha dimostrato l'anno scorso la squadra che ha dominato la stagione è uscita al primo turno di play-off. Quindi dobbiamo lavorare forte da questi giorni per poi arrivare nel periodo clou della stagione, che sono i play-off, nel miglior modo possibile. Adesso però un passettino alla volta, intanto affrontiamo questa settimana.